Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai-da-te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. In questo video tutorial, in questo video guida, volevo presentarvi un social media che senz'altro molti già conoscono, Pinterest. Si tratta di un'applicazione web a cui si può accedere tramite pc o tramite smartphone e tablet e serve per creare raccolte di link, raccolte di risorse che troviamo nel web, in modo da ordinare ciò che incontriamo nella nostra navigazione. Bene, che cos'è quindi esattamente Pinterest? Io l'ho definita come un'applicazione per la cura dei contenuti, anche se è una definizione restrittiva. Infatti, quello che consente di fare Pinterest, del tutto gratuitamente, è infatti free, è di salvare ciò che troviamo sul web, che siano video, immagini, documenti, testi per testi, siti, post, articoli, fotografie, eccetera. Quindi, possiamo salvarli in modo da raccoglierli in quelle che vengono chiamate bacheche, raccolte, ordinate per argomento. In questo modo possiamo facilmente accedere a ciò che di interessante abbiamo trovato nel web. Ma le applicazioni sono in realtà molto più ampie. Quindi possiamo salvare, dicevo, qualsiasi pagina o risorsa del web. Qualsiasi cosa abbia un indirizzo, una URL nel web, possiamo salvarla. Il fatto di poter archiviare ordinatamente, selezionando le informazioni che ci interessano, confrontandole, categorizzandole e quindi classificandole, è un grosso vantaggio. Inoltre, possiamo collaborare, cioè creare raccolte collaborative, oltre che individuali, e condividere con gli altri quello che abbiamo raccolto. Come funziona esattamente Pinterest? Abbiamo detto che è un social media per creare bacheche tematiche. In generale, possiamo dire che il principio di funzionamento è quello di trovare un insieme di procedure, una strategia per trasformare il caos informativo, cioè il sovraccarico informativo presente in rete. Ci sono troppe informazioni, è vero che in rete c'è quasi tutto il sapere umano, ma c'è anche tutto ciò che è di sciocco, stupido, falso, ingannevole. Gli uomini producono, ne hanno sempre prodotto. Quindi il problema è filtrare questo caos informativo e tramutarlo in una serie di conoscenze ordinate, utili, immediatamente disponibili, da condividere con gli altri. Si tratta, insomma, di una funzione quasi demiurgica, come quella di molti altri strumenti, per la cura dei contenuti. E quindi filtrare come un colino il web per tenere solo ciò che ci interessa. Pinterest è una parola che deriva dalla contrazione di due altre parole, una parola macedonia come si suol dire, da pin, che in inglese significa appendere. I pin sono questi spillini con cui si appendono le bacheche di sughero, un bigliettino, pro memoria. E interest, che significa interesse. Quindi creare bacheche che raccolgano i nostri interessi. Queste possono essere pubbliche, cioè aperte agli altri, o anche private. Possono essere individuali, e quindi posso averne il controllo solo io, o possono anche essere realizzate in collaborazione. Cosa avviene poi di queste bacheche? All'interno di queste bacheche io appunto appenderò, pinnare, il verbo, malamente tradotto in italiano, tutto ciò che trovo in rete che è attinente al tema di cui la bacheca si occupa. Video, immagini, mappe, articoli, testi, come ho già detto. Potrò anche seguire altri utenti, definiti pinner, e le loro bacheche. Se mi rendo conto che sono persone esperte di quel tema, argomento che mi interessa, che quindi posso fidarmi di loro, posso, anziché rivolgermi a un motore di ricerca, andare a vedere cosa hanno filtrato e cosa mi offrono su quell'argomento. Sarà senz'altro più affidabile che una ricerca alla cieca su un qualsiasi motore. Funziona su qualsiasi dispositivo, oltre che sul PC e il tablet, è disponibile anche, ovviamente sono disponibili le app per Android e per iOS. È molto semplice da utilizzare, è molto rapido. Si apprende molto rapidamente, ma si realizza anche molto rapidamente, le bacheche le si popolano di link. Per registrarsi su Pinterest, si reca nella home page di questo servizio, e con la propria mail e creando una password, si è automaticamente registrati. Si può accedere anche con Facebook, con Google+, eccetera. Io sono già registrato, quindi clicco su accedi, e per far prima accederò con Facebook. Ecco, questa è la pagina iniziale di Pinterest. Cliccando in alto a destra, sull'omino, entro in quella che è la mia pagina. La prima funzione che cercheremo di verificare è quella di ricerca. Infatti, come dicevo, il vantaggio di Pinterest è quello di offrirci bacheche tematiche su qualsiasi argomento, dal giardinaggio alla cucina medievale, dal turismo allo sport estremo, dal fai-da-te al latino, bacheche curate da persone esperte di quell'argomento, e quindi possiamo, anziché usare un motore di ricerca, cercare ciò che ci interessa usando Pinterest. Questa è la casella di ricerca. Adesso io digiterò, per esempio, esperimenti di fisica. Ecco qua. Digitiamo. Clicchiamo su esperimenti di fisica. Come vedete, viene fornita una pagina dove ci sono molti pin. Ciascuno di questi è un pin. Che cos'è un pin? Un pin è appunto un link, un segnalibro grafico, perché come vedete riportano delle immagini per facilitare la memorizzazione, con un commento, in questo caso in inglese, che mi informa su quello che posso trovare cliccando su questo pin. Proviamo a cliccare. Clicco sul pin e vedete, si ingrandisce. E che cos'è questo pin in realtà? È un segnalibro grafico cliccando sopra il quale io andrò al link che questo segnalibro contiene. Ecco, il link è un articolo che riguarda la fisica e il calcolo, immagino, di pi greco, eccetera. Chiudiamo. Ecco, quindi qual è il meccanismo? L'abbiamo capito. Ciascun pin si può ingrandire. E cliccando poi su di esso, accedo alla pagina a cui quel pin rimanda. Adesso chiudo usando questa croce. Vediamo come funziona meglio la funzione di ricerca. In questo caso, vedete, ho selezionato tutti i pin. Questi sono pin presi dalle innumerevoli baccheche che troviamo in rete, messi in questa pagina. Vedete, possiamo scendere col nostro mouse. mouse, troveremo sempre centinaia, migliaia, decine di migliaia di pin. Ma supponiamo che io voglia, invece, vedere baccheche intitolate esperimenti di fisica. Quindi raccolte, già predisposte, che trattano di esperimenti di fisica. Per esempio, ecco, ci sono quattro baccheche in italiano dove sono riportate tutte le parole esperimenti di fisica. Potevo cercare anche solo fisica, per esempio solo esperimenti. Entriamo in una di queste baccheche. Quindi questo non è un pin, ma è la copertina di una raccolta di link, in pratica. Entriamo e vediamo cosa abbiamo. La grammatica di ogni applicazione web contiene una serie di indicazioni obbligatorie che sono utili al pubblico, all'utente stesso che ha creato quel determinato contenuto. In questo caso abbiamo un titolo della baccheca, molto importante, perché ci permette di trovarla e ci permette di comunicare agli altri il tema, l'argomento di quella baccheca. Abbiamo alcune informazioni. Il numero di pin, ingrandisco. Il numero di pin contenuti sono 240. Ci sono 19 persone che possono seguire questa baccheca. Abbiamo poi, l'autore della baccheca ha inserito, una descrizione. Questo è molto utile, perché a volte il titolo è troppo generico e invece è importante che noi impariamo e insegniamo ai nostri studenti a pubblicare sul web. Noi ci stiamo rivolgendo a un'attenza pressoché illimitata. Chiunque ci può leggere in qualsiasi parte del mondo è bene scrivere in italiano e magari anche in inglese una breve descrizione in modo da meglio specificare qual è l'argomento della baccheca. Vediamo, questo autore, adesso non ricordo il nome, ha scritto idee per realizzare esperimenti con materiale povero e quindi videoesperimenti. E quindi noi già sappiamo che troviamo dei video sugli esperimenti e troveremo esperimenti fatti con materiale povero. E poi abbiamo un invito, un invito a collaborare inserendo in questa baccheca esperimenti. Ecco, questa è una baccheca collaborativa. Chiunque può aggiungere il pin a questa baccheca. Vediamo che ci sono 240 esperimenti. Alcune descrizioni sono in inglese. Noi potremo adesso ingrandire un pin e andare a vedere se si visualizza già da qui oppure possiamo visualizzare cliccando qui da YouTube questo esperimento. D'accordo, supponiamo che ci interessi questa baccheca perché insegniamo fisica o per qualsiasi altro motivo basta cliccare segui la baccheca e da quel momento noi seguiremo quella baccheca. Cioè, ogni qualvolta questa persona torno indietro, non si dovrebbe fare ogni volta che questa persona inserirà un nuovo elemento nella sua baccheca noi verremo avvisati. Vediamo altri esempi di baccheche anche per capire l'utilità che possono avere in ambito didattico. medioevalia, qui abbiamo addirittura 6100 pin quindi 6100 risorse linkate dentro questa baccheca 313 persone seguono questa baccheca storia, arte, architettura, personaggi vita e cultura del medioevo. Ecco, guardate quanto materiale è qui a disposizione. Altro esempio, qui ho cercato ricette di dolci in italiano e vedete tutto quello che mi è apparso basi, creme e dolci e qui abbiamo adesso sto seguendo questa ecco, vedete abbiamo tutta una serie di ricette ancora giardinaggio si tratta anche in questo caso di persone appassionate a livello maturiale o magari a livello professionale di quel certo argomento che quindi ci possono offrire risorse già filtrate da loro già classificate, selezionate di cui hanno già verificato l'attendibilità ma proviamo adesso a cercare che so, latino qualcosa di più vicino alla didattica e alla scuola ecco, queste sono baccheche che riguardano il latino in tutte le lingue posso anche cercare latino e italiano per vedere se ci sono baccheche in italiano ecco, neolatinocenamica questo è più sullo stile civiltà latina e così via quindi abbiamo a disposizione un numero enorme di risorse già organizzate adesso torno nella mia pagina cliccando sull'icona dell'umina queste sono le mie baccheche ecco come vi appaiono le vostre baccheche queste sono baccheche private e queste sono baccheche pubbliche vediamo cosa rappresentano queste altre icone bene, cliccando qui ho le notifiche queste sono tutte le notifiche le persone che seguo mi avvisano che per esempio questi pin che io avevo salvato sono stati salvati da altre persone nelle loro baccheche o che questa persona che io seguo Nicoletta Reso ha salvato in una certa baccheca delle idee e così via quindi io sono sempre aggiornato sotto quanto succede posso andare a vedere se mi interessa un certo pin e aggiungerlo a mia volta sulle mie baccheche questo è il mio nome è un'icona che ho aggiunto una breve presentazione e dicevamo le baccheche ancora accedendo a questa che dovrebbe essere la rotellina delle impostazioni vado sul mio account e posso configurare cambiare la password e via dicendo nella seconda parte del tutorial su Pinterest vedremo come creare una baccheca e come inserirvi dei pin vediamo adesso come può essere utile dal punto di vista didattico Pinterest ovviamente si tratta prima di tutto di saperlo utilizzare ma una volta che lo si sa utilizzare come poi sfruttare le potenzialità di questa applicazione al supporto delle attività formative che conduciamo insieme ai nostri studenti bene prendiamo ad esempio alcune di queste baccheche c'è una baccheca sulla cittadinanza digitale dovendo affrontare questo argomento con gli studenti ho creato questa baccheca raccogliendo del materiale da poter condividere con loro ecco quindi una prima modalità può essere quella di impiego nella didattica può essere quella di raccogliere risorse su un certo argomento che si sta affrontando e questo è abbastanza intuitivo naturalmente possiamo far sì che siano gli studenti a realizzare queste baccheche o collaborativamente o individualmente possiamo utilizzarlo a supporto di attività e progetti che stiamo portando avanti ed upank è un corso rivolto ai colleghi dove ho raccolto alcuni esempi di relativi alle attività che stavamo portando avanti nel corso oppure ancora può servire per documentare eventi progetti attività viaggi di istruzione in questo caso abbiamo partecipato al festival della filosofia di Modena con alcuni studenti e poi abbiamo realizzato questa baccheca in cui si documentavano le attività le conferenze le lezioni magistrali a cui avevamo assistito nel corso del festival di Modena del 2014 e anche alcuni articoli scritti da noi questa è una baccheca collaborativa OBSLOC e IUM che avevano realizzato gli studenti e diversi studenti per approfondire alcuni argomenti che stavamo trattando in ambito filosofico ugualmente questa musica e filosofia ancora si può utilizzare Pinterest come portfolio io qui per esempio ho raccolto alcune cose che ho scritto post articoli su blog riviste varie e le ho raccolte tutte qui e si può chiedere agli studenti che raccolgano in una baccheca tutti i lavori che hanno portato avanti che hanno creato nel corso per esempio del liceo nelle varie discipline questi sono articoli raccolti dagli studenti stavamo portando avanti un'attività sullo stereotipo il pregiudizio sulla convivenza e via dicendo dovevamo fare un lavoro e ci si riva del materiale fatti di cronaca molti studenti hanno realizzato questa baccheca questa è una delle tante che hanno realizzato quindi insomma è molto duttile molto versatile si può fare qualsiasi cosa ma il principio che voglio ricordare è appunto questo occorre è necessario riuscire a ridurre la complessità e il caos del sovraccarico informativo e cognitivo presente su internet a fare un'operazione di filtraggio che mette in gioco competenze complesse vediamo quali sono queste competenze bene sono competenze digitali disciplinari e poi diciamo così Pinterest si può usare come supporto l'abbiamo appena visto alla didattica competenze digitali quali sono sono quelle della cura dei contenuti è importantissimo che gli studenti siano capaci di selezionare le informazioni confrontarle tra di loro valutarle e individuare quelle che interessano in relazione a un determinato obiettivo specifico inoltre è importante anche la categorizzazione dovendo raccogliere ordinatamente le risorse trovate sul web devo anche categorizzare la categorizzazione fondamentale nel pensiero astratto e devo anche poi classificare e quindi creare una sorta di tassonomia tante bacheche su tanti argomenti sapere dove inserire un certo link un certo pin in quale bacheca eccetera ma non basta devo anche recensire e commentare quello che ho trovato e inoltre devo pubblicare sul web e quindi devo imparare a pubblicare un contenuto sul web devo gestire un account in questo caso l'account è quello di pinterest ma sono molto simili le procedure di gestione degli account in tutti i social media e per quanto riguarda le conoscenze dei contenuti non ci sono solo le conoscenze e le competenze e le abilità relative al digitale che sono comunque fondamentali perché è chiaro che ormai come un tempo era importante l'alfabetizzazione la scrittura la lettura adesso continua a essere importante l'alfabetizzazione tipica della cultura tipografica ma nell'ambito della cultura digitale occorre che oggi si sappia anche comunicare usando gli strumenti digitali però non si deve pensare che si tratta solo di un esercizio informatico la competenza digitale non è una conoscenza informatica non è coding non è saper programmare quello è un altro tipo di conoscenza specialistica che non ha a che fare con la competenza digitale la conoscenza dei contenuti è contemplata ma certo è chiaro che utilizzando Pinterest come strumento per l'apprendimento della conoscenza potenziamo per esempio il lessico disciplinare e sviluppiamo l'esperienza e la competenza degli studenti in quel determinato ambito disciplinare o relativamente a quell'argomento di quell'ambito disciplinare o interdisciplinare e poi Pinterest è un supporto a qualsiasi tipo di attività didattica formativa che richieda un'attività di ricerca di fonti di ricerca di dati di organizzazione delle informazioni o di documentazione delle attività sia che seguiamo un approccio basato sul PBL l'apprendimento basato sui problemi o basato sulla ricerca o l'apprendimento cooperativo o come il caso della documentazione di attività il portafolio la valutazione eccetera Pinterest si rivela uno strumento utilissimo perché è rapido perché è semplice e perché possiamo facilmente condividere ciò che creiamo le nostre baccheche e trarre spunto dalle baccheche create e prodotte dagli altri bene ho finito nella seconda parte vedremo come si utilizza questo strumento buona giornata a tutti grazie 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 a tutti